Ancora un'operazione dei carabinieri a contrasto dell'uso e spaccio di sostanze stupefacenti nel mirino degli uomini e delle donne dell'arma. C'è infatti sempre la piaga del consumo di droga che si sta diffondendo fino anche tra le fasce di età più basse. Nell'ambito di tali controlli i carabinieri della compagnia di Mirabelle Clano nel comune di Altavilla Erpino hanno eseguito numerose perquisizioni domiciliari, veicolari e personali. Nel dettaglio, all'esito di un controllo effettuato presso una delle abitazioni individuate, quale possibile obiettivo di interesse nella lotta al traffico di stupefacenti, guidati dal fiuto del cane Zidane in forza al nucleo cinofili di Sarno, hanno rinvenuto alcuni grammi di cocaina suddivisa in dosi e sei bilancini di precisione. Quando i carabinieri hanno bussato alla porta, l'uomo, resosi conto della scomoda presenza, ha tentato di evitare il controllo sfidando i militari operanti a trovare sostanze di qualsivoglia natura nella sua abitazione come prova della sua buona fede. Presso un'altra abitazione, situata sempre nel comune di Altavilla, è stata rinvenuta una pianta di cannabis. A carico dei due soggetti, entrambi pregiudicati di 46 e 33 anni, è scattato il deferimento in stato di libertà alla procura della Repubblica di Avellino, diretta dalla procuratura e capo Rosario Cantelmo, in quanto ritenuti responsabili dei reati di detenzione ai fini spaccio di sostanze superfacenti. Sia la droga che i bilancini di precisione sono stati sottoposti a sequestro.